Buongiorno a tutti, come potete vedere siamo qui davanti al comune di Avellino, abbiamo protocollato una richiesta riguardante un progetto per quanto riguarda gli oli esausti di vegetali, i cosiddetti oli da frittura, infatti come molti sapranno circa 150.000 tonnellate di questi oli vengono riversati ogni anno in Italia nelle reti fognale con ovviamente un aumento dei costi di depurazione di tali fogni, questi oli infatti se ben recuperati e diciamo riciclati potrebbero diventare altre materie prime come ad esempio oli lubrificanti oppure biodiesel da trazione o avere comunque altri tipi di impieghi industriali, per questo noi chiediamo al comune di Avellino di dare la possibilità ai cittadini di poter raccogliere privatamente questi oli in delle tanniche che poi verrebbero consegnate gratuitamente e su richiesta per poter raccogliere questi tipi di oli che poi i cittadini potranno sversare in dei punti appositi sistemati nel territorio comunale. Ovviamente ci tendiamo a precisare come questo tipo di progetto è totalmente gratuito sia per i cittadini che per il comune, quindi non andrebbe a gravare sulle casse disastrose del comune. Infatti come abbiamo potuto realizzare già in alcune realtà comunali quali Cesinali o Serino, ci sono delle aziende che già raccolgono a titolo gratuito questi tipi di oli.